Feltrese E' un bel assist di Gondo Che lo ha messo Solo davanti all'estremo Lì a Piave E quindi quando è il quinto In corso di gioco 1-0 per la Feltrese In questa terza giornata di campionato Che ancora cerca Gondo Lo spinge a Cittadini Ma la palla arriva a Marinelli Che si difende da Bortotto Marinelli, Marinelli Tenta il sinistro Che è sibile alla sinistra Di Schincariol Proteso in tuffo Bella risposta della Feltrese All'azione di poco fa Sarebbe potuto stare anche il giallo Perché ha trattenuto l'avversario Bravissimo Bay sul colpo di testa di Abazzi Si arrabbia Tutta la difesa era ferma Stavano aspettando il fischio dell'arbitro Ma nessuno ha chiesto la distanza E quindi Abbattuto a sorpresa Benetton Abbazzi Liberissimo A centro aerea Colpo di testa Botta sicura E beh Straordinaria rispinta Distinto Deldine recupera sul rilancio di Mancuzzo Deldine Deldine Il cross Troppo retratto C'è Farhan 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 A Salvadori accanto Per vicino Indietro a Giazzone Per Darizza Attenzione al pressing Darizza Per Scalette Quindi soppensa C'è Gondoli vicino Eccolo servito Bene triangolazione Soppensa in aria Soppensa Soppensa Lo ha tirato giù Paladin Appena dopo Che soppensa Aveva perso il pallone Bravo Soppensa Deldine Scalette Paladine e Gagno Recuperano palla Paladine Attenzione Cattelane Il sinistro Gli rimane in canna E beh Rilancio per Marinelli E questo è a fallo E ci sta anche il giallo Qui perché il cittadino È andato secco sull'uomo Marinelli Anche se Alla fine Marco Giazzone Con i suoi 36 anni Riequilibra un po' tutto 36 anni Di pura esperienza È sempre uno dei migliori Della linea difensiva Di Grata Scalette Bel numero su Gagno Poi vede lo scatto di Gondo Lo serve Gondo Gondo in aria Gondo Gondo resiste a Bortotte A Cittadini Gondo ancora Gondo Gondo C'era Marinelli libero Fa tutto da solo Gondo Alza alle stelle Fare la cretinata Poi si è salvato A parte Deldine sulla destra Soppensa Non lo vede Balla per Scalette Che vede invece Scalette Che lascia A Gondo In aria Gondo Gondo tira Risposta di Schink Bene Poi Scalette recupera Scalette Tenta il cross C'è Gondo Che la lascia per Marinelli La girata di prima intenzione Non esce un tiro forte Non esce neppure Non esce neppure un tiro angolato E quindi Schink Non esce neppure un tiro angolato Bella azione Comunque insistita Del Granata Farano Niente da fare ancora Marinelli Per Scalette Parte Scalette C'è Gondo libero sulla destra Scalette Va da solo C'è Gondo libero Scalette Sbaglia il passaggio Sbaglia il passaggio Scalette Ha fatto tutto bene Perché Si è allargato Ha costretto Cittadini A una scelta Cittadini è andato su di lui C'era quindi Gondo Libero in mezzo all'area Marinelli appena più dietro Ma Scalette Ha sbagliato Anche l'intervento Che ha subito da parte di Paladin Intorno al quarto d'ora Furlan Trattiene vistosamente Argenta Che gli va via Comunque Bella triangolazione con Gondo Argenta Argenta in aria Esce Argenta si accentra Argenta il sinistro Ma il Cuzzolo lo tiene Appoggia la palla fuori dall'aria Va al rinvio Verso Marinelli Che di testa Prolunga per Torri Argenta in aria Argenta Argenta contro Cittadini Argenta E Cittadini lo ferma Ma la palla rimane Argenta Argenta Il sinistro Un po' debole Marinelli scuote la testa Era lì Libero Però non in una posizione Agevole Questa parte per Bonotto Il cross di Bonotto Cattelan la tocca La palla rimane buona per Benetton Il cross E arriva il gol C'è il gol del numero 16 Menegaldo Quando il cronometro segna 45 e 16 La beffa Cattelan la tocca La palla rimane buona per Benetton Il cross Feltrese ha accusato il colpo Anche se ci ha provato sotto Il cross Di abazzi Di testa Libero In mezzo all'area Cattelan E si è capito perché lo lasciano libero Ha mancato la porta con un colpo di testa che più facile era difficile avere Un minuto Sarà l'ultima occasione della partita Lei ha fatto un miracolo su Albanese E poi E poi è stato Menegaldo No Bortot E poi è stato Bortot che ha mandato alle stelle Con un ultimo brivido Finisce Feltrese e via Piave 1 a 1 Un pareggio Inatteso Soprattutto per quello che si era visto in campo Potete salere a 5 punti in classifica dopo 3 giornate Grazie a tutti per l'ascolto